Nella sede operativa dell'abbazia di Santo Spirito al Morrone, il parco ha incontrato il club alpino, gruppo Abruzzo, le associazioni del territorio e le imprese del settore per organizzare e pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria sui sentieri e percorsi presenti nel territorio del parco, nell'imminenza della stagione estiva. Il presidente Lucio Zazzara ha evidenziato la proficua ed intensa collaborazione tra ente parco, comuni, associazioni, imprese per garantire la copertura degli interventi sul più ampio numero di sentieri e percorsi ed ha ringraziato la disponibilità dimostrata dai presenti che anche quest'anno dedicheranno il loro lavoro per curare la segnaletica, sistemare i percorsi, rilevare criticità. Nella sua relazione il direttore Luciano Di Martino, nell'analizzare i punti di forza e di debolezza degli interventi dello scorso anno, ha sottolineato l'esigenza di un coordinamento puntuale e tempestivo, ha riscontrato le richieste di altre imprese ed associazioni interessate alle operazioni di manutenzione, oltre all'ormai consolidato rapporto con il gruppo Abruzzo del club alpino italiano e le sue sezioni locali, confermando altresì che le attività inizieranno nelle prossime settimane.